Ciao a tutti, vediamo in questo video 6 messaggi per rendere un uomo dipendente da te. Prima però iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco. Tengo molto che tu ti iscrivi a questo nuovo canale perché se ti iscriverai e raggiungeremo il quorum entro fine giugno farò un seminario gratuito. Quindi iscriviti e fai iscrivere ai tuoi amici divulgando il canale nei vari social, Whatsapp, Telegram, Facebook, Twitter, insomma tutti i tuoi social in modo tale da crescere più rapidamente. Inoltre ti ricordo che farò un seminario invece online sempre sull'altro mio canale Felicità Benessere, martedì 9 giugno sulla gestione delle emozioni in amore. Ecco qua, per partecipare basta che vai sul canale Felicità Benessere, home page, tastino abbonati che sta vicino al tastino iscriviti, se non lo vedi dall'app del cellulare del computer e poi seleziona seminario online. Sarà martedì 9 giugno dalle 20.30 alle 23.00. Poi il video ti resterà per un mese, quindi tutto il tempo di partecipare. Allora, veniamo un attimino a questa cosa qua, 6 messaggi per rendere un uomo dipendente da te. Ovviamente oggi si comunica molto attraverso sms, messaggi, quindi i messaggi se usati bene sono un valido strumento di seduzione, per poter sedurre, per poter conquistare. Sono veramente un ottimo strumento. Ora, è importante utilizzare quindi i messaggi nel modo giusto e soprattutto evitare di utilizzarli nel modo sbagliato, perché se si utilizzano nel modo sbagliato non funziona, insomma. Cioè, nel senso che se li utilizzano nel modo sbagliato non hai poi possibilità di fare nulla, perché perdi terreno. Risulti essere dipendente tu o risulti essere bisognosa tu. Quindi i messaggi utilizzati nel modo giusto servono per rendere dipendente l'altra persona e far sì, soprattutto, che l'altra persona inizia a sviluppare dei pensieri costanti e continui verso di te. Ed evitare che accada al contrario. Però prima è necessario togliere, diciamo così, l'erba cattiva, prima di seminare l'erba buona o i fiori buoni nel giardino, perché questo devi tenere presente. Molti dicono, eh vabbè, ma ho fatto, non ha funzionato. Sì, ma se tu non hai prima tolto i rovi, come puoi pretendere che le cose crescano? E i rovi, in questo caso, sono tutti messaggi che ti fanno risultare bisognoso. Se tu mandi questi messaggi, bisognoso, bisognoso, se tu mandi questi messaggi, non otterrai nulla mandando questi messaggi, perché vanno a inquinare tutto il resto. Quindi i messaggi negativi vanno tolti. Quindi prima di passare ai sei messaggi positivi, diciamo, vediamo quelli negativi da togliere, da non usare mai. Sono messaggi del tipo, stai bene? Cosa stai facendo? Oppure, sono felice di averti conosciuto. Mi manchi tanto. Poi, il non plus ultra, allora, quando ci vediamo? Mi farebbe proprio piacere uscire ancora una volta con te. Oppure, sei arrabbiato perché non mi stai più chiamando? Ho fatto qualcosa che non va, che non mi stai più cercando? E tutta questa plettora di messaggi più o meno simili, bisognosi, potrei andare avanti all'infinito, però credo che hai capito più o meno a cosa alludo, diciamo, quando parlo di questo tipo di tipologia di messaggi, per cui non mi dilungo più in questo, perché se ne possono mandare diecimila tipologie diverse. Però, come dire, la tipologia di messaggio è questa. E adesso che abbiamo visto questi messaggi, diciamo così, negativi, che non devono essere utilizzati, mi raccomando, questa tipologia di messaggi non deve essere mai utilizzata, veniamo ai sei messaggi per rendere un uomo dipendente da te, invece. Prima di passare a questi, però, voglio ancora ricordarti che di iscriverti a questo canale, se ti iscriverai a questo canale e raggiungiamo il quorum entro il 30 giugno, farò un seminario gratuito sulla seduzione. Quindi, cerchiamo di raggiungere questo quorum, divulga il link di questo canale nei tuoi social, anche Whatsapp e Telegram, se ce l'hai, e così si fa prima a raggiungere il quorum. E veniamo a questi sei messaggi. Allora, il primo, la prima tipologia... Allora, intanto diamo una regola generale. Su cosa si basano questi messaggi? Beh, si basano un po' sulla penalizzazione. Si basano un po' sulla penalizzazione e sul concetto di effetto Zygernick. Cioè, la penalizzazione che cos'è? La penalizzazione ovviamente dà un'emozione, deve generare dei dubbi, deve generare delle tensioni. Ovviamente in modo subliminale, non eccessivo, e soprattutto deve innescare dei meccanismi fortemente proiettivi, in modo tale che l'altra persona possa proiettare quelle che sono le sue caratteristiche, quelle che sono le sue esigenze, e le possa proiettare su di te, praticamente. Questo è molto importante. Quindi il meccanismo proiettivo è la prima cosa che va utilizzato. E poi, un'altra cosa, diciamo, è l'effetto Zygernick, cioè lasciare sempre delle guest alta aperte. Non devono mai essere esaustivi i messaggi. Perché se tu lasci delle guest alta aperte, cioè lui non capisce esattamente cosa vuol dire il messaggio, e per un fenomeno studiato da Bloom Zygernick, il suo pensiero inizierà a diventare costante su di te, cioè inizierà a pensarti. Perché è soltanto dire che cosa avrà voluto dire con questa cosa, cosa avrà voluto dire, ma comunque il suo pensiero va su di te. E quindi se il suo pensiero va su di te, è uno dei modi che utilizza sempre il cervello per identificare un qualcosa che ti piace. Se tu lo pensi spesso, è perché in qualche modo non sei coinvolto. Ecco, quindi questo è quello che succede, e quindi devi essere penalizzante, un pochino penalizzante. Allora, un messaggio che è abbastanza penalizzante, che va a svilire un po' il suo concetto di maschio, di virilità, e che poi tu puoi utilizzare, poi invece per dare degli stimoli, perché questi messaggi devono anche servire per dare degli stimoli, è un messaggio del tipo, mi immagino che dormi con il pigiama, con i calzini e il pigiama di flanella. Se lui ti dice, che ne so, vado a dormire, qualcosa del genere, ah, mi immagino che vai a dormire, un tipo come te va sicuramente a dormire con i calzini e il pigiama di flanella. Ecco, un qualcosa del genere, che va a renderlo un po' ridicolo, no? Perché dici, mi pensi come uno proprio antiseduttivo, come l'antiseduzione al massimo. Beh, se lui ti dice, ad esempio, perché tu come vai a dormire? Per farci un esempio, questo ti dà il là, qualunque cosa lui faccia, per descrivere invece tu che vai con un ingeri particolare, ad esempio. E quindi innescare un meccanismo di questo genere. Altro messaggio che invece può essere utilizzato è se lui ti accenna, ogni tanto può succedere che, diciamo, vuole, magari ti propone una proposta per qualcosa, tu devi sempre rifiutare rispondendo in questo modo, no, guarda, stasera non posso, ho già un impegno, ci aggiorniamo domani, oppure può essere anche aggiornami domani. Però è meglio ci aggiorniamo, perché ci aggiorniamo ti lascia eventualmente poi la possibilità di scrivergli qualcosa, ma poi tu ovviamente non scriverai. Quindi, quella negazione, qualunque invito, stasera non posso, ho già un impegno, ci aggiorniamo domani. Questo ovviamente va mandato, va mandato, diciamo, quando lui ti invita, soprattutto se ti invita a distanza abbastanza ravvicinata. È ovvio che se ti fa un invito a distanza di una settimana, un mese, no, ma se ti invita oggi per domani, devi utilizzare questo. Poi, secondo tipo di messaggio. Poi c'è il terzo tipo di messaggio, che invece è il messaggio gratificante. Come gratificare? Questo devi emetterlo ogni tanto per generare un altro effetto, che si chiama l'effetto Skinner. Cioè, attraverso l'effetto Skinner rendi il condizionamento, quello che si chiama condizionamento operante, o rinforzo intermittente. Cioè, genera un'ossessione nei tuoi confronti. Adesso non faccio tutta la teoria dell'effetto Skinner, comunque sono esperimenti fatti, consolidati. Ed è lo stesso meccanismo che si utilizza, ad esempio, nelle slot machine. Quando tu vai a giocare alle slot machine, perché le persone continuano a giocare? Né perché perdono sempre, né perché vincono sempre. Perché ogni tanto c'è una vincita. E quindi questo li spinge a sperare di vincere ancora. Allora, un messaggio gratificante è, quando iniziano ad esempio una relazione, ti faccio un esempio. Deve essere gratificante in modo intelligente. Non sei bello, sei alto, ma qualcosa di profondo. Ad esempio, mi sto affezionando la tua famiglia, perché vedo in loro la parte più importante di te. Ad esempio, una frase di questo genere è molto gratificante, perché soprattutto, oppure se vedi che lui è, diciamo, particolarmente legato alla madre, o comunque a un rapporto anche conflittuale con la madre, va bene lo stesso, è una frase molto utile questa. Mi sto affezionando a tua madre, perché vedo in lei la parte più bella di te, ad esempio. Questa è un'altra frase in cui, se uno è collegato, connesso alla madre, è molto, molto, molto importante. Poi, un altro, un altro messaggio penalizzante, diciamo, il quarto messaggio, è un messaggio del tipo, ad esempio, certo che sei ridicolo. Ecco, ovviamente questo deve essere in risposta a qualcosa, o quando non si fa sentire ridicolo, è un qualcosa che svilisce molto, è una penalizzazione molto profonda. Questo da utilizzare come forma penalizzante, perché il ridicolo è colui che viene preso in giro, insomma. Il quinto messaggio, in risposta, se per caso, è una parola sola, se per caso lui ti scrive, che ne so, ti penso, ti amo, mi manchi, mi piaci, cosa risponde in questi casi? Perché se tu dici, sì, anch'io ti amo follemente, ti desidero pazzamente, non va bene, perché, perché non va bene, perché è comunque una gratificazione. Invece, per rispondere a qualcosa, ma non essere gratificante, è lasciare il dubbio, e questo fa nascere il dubbio, è rispondere a una sola parola, idem, idem con patate, diciamo, idem, cioè è la stessa cosa, idem è la stessa cosa che, è la parola che tu puoi utilizzare per generare dipendenza, diciamo. E poi, un altro, un altro messaggio che, che tu puoi usare un po' svilente, un po', diciamo, giocoso, è certo che si vede che non hai studiato a Oxford, quando, ad esempio, lui fa, magari dice qualcosa, alle volte può succedere che sbaglia la grammatica, nei messaggi, allora penalizzi in questo modo, certo si vede che non hai studiato a Oxford, che vuol dire, questo in risposta a un suo messaggio, no? Quindi inizierà a pensare che magari ha fatto un errore, ha scritto qualcosa, qual è questo, questo motivo? Ovviamente chiedere, questo puoi anche mandarlo se scrivi una frase grammaticalmente corretta, eh, perché ho una telefonata, magari ad esempio, che c'è stata una telefonata in cui ha detto delle cose, eccetera, perché genera un po' l'effetto Zeigernick, ti chiedi perché mi sta dicendo questo, no? È un qualcosa che non è chiaro, certo, sembra, diciamo, legato a qualcosa che abbia fatto, che non, che non, che non vada bene, però, che cosa sarà in realtà? Ecco bene, questo è un altro tipo di messaggio che funziona molto bene per, diciamo, generare questo effetto, Zeigernick, e quindi spingerlo a pensarti. Bene, iscriviti al canale e ti ricordo ancora che se ti iscriverai al canale, anzi, lascia anche nei commenti qua sotto, dimenticavo di dirtelo, una tua opinione, perché è molto importante. E poi, iscriviti al canale e se raggiungeremo il quorum entro il 30 giugno farò un seminario gratuito e invece sul mio, sul mio canale, Felicità Benesserti, lascio il link sottostante, comunque, nella descrizione, farò un seminario sulla gestione delle emozioni in amore che potrà essere molto utile per la tua gestione delle emozioni in amore che sarà martedì 9 giugno dalle 20.30 alle 23.00. Per partecipare devi andare nell'home page del canale Felicità Benesserti e cliccare sul tastino abbonati e selezionare seminario online. Per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo. Ciao!